Il capitolo delle tecnologie digitali intende soffermarsi su tre questioni fondamentali. Primo, lo scenario geopolitico, come si colloca l'Europa rispetto ai Stati Uniti e Cina. Secondo, quali sono le criticità, e qui verrà infettizzata l'eccessiva attenzione alla protezione rispetto alla condivisione dei dati e gli elevati ostacoli e costi alla innovazione di rilevanza sociale. E in terzo punto, quali sono le proposte che intendiamo avanzare per una riforma dal punto di vista parlamentare di alcuni aspetti della normativa europea. E qui tre punti sono cruciali. Modifica il GDPR per la parte relativa all'utilizzazione dei dati per ricerca scientifica e biomedica. Tutela collettiva che va rafforzata con l'intervento degli enti del terzo settore per la protezione e l'esercizio dei diritti sui dati. Terzo punto molto importante è rompere i monopoli della conoscenza e quindi ridurre l'effetto esclusivistico delle privative, di copyright, segreto industriale, permettere un più ampio accesso alla conoscenza e consentire un più ampio riutilizzo dei dati per finalità di applicazione di intelligenza artificiale, di interesse social.